Ciao ragazzi, oggi siamo qua per presentare l'ultimo arrivo di casa Fender. Fender Mustang JP, basso a scala corta in questa finitura molto vintage che richiama i bassi quando è stato presentato il Mustang nel 64 da Fender. Abbiamo detto una scala da 30 pollici e la possibilità di avere due tipi di microfoni diversi, quindi abbiamo un centrale in stile precision e un pick up al ponte in stile jazz per creare una varietà di suoni veramente interessante. Andiamo a sentirlo. Cominciamo col pick up centrale. Adesso andiamo a micelarli. E sentiamo il pick up al ponte. Grazie. 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 Fender Mustang JP, disponibile in negozio. Vi aspetto per provarlo. Ciao.